Se avete già visto l'altro video della collezione Funko Pop, questo qui è l'aggiornamento, comunque non sarà affatto allo stesso modo dell'altro, quindi vi faccio vedere Funko Pop per Funko Pop, vi faccio vedere i dettagli e tutt'altro, sia per il motivo che state, quindi non voglio sprecare troppo tempo a fare certi video, anche perché fan caldo cane, e anche per un altro motivo, e cioè che in estate su YouTube c'è meno persone, quindi meno visualizzazioni, Quindi fare un grande lavoro non servirebbe quasi a nulla, ve li farò sempre vedere, vi darò una spiegazione quando li ho comprati, ma solo facendo vedere l'immagine, punto, ok, quindi iniziamo Allora, il Funko Pop di Yamcha l'avevo ordinato su Amazon verso giugno, ma poi non l'avete visto perché non ho mai tirato fuori un vero e proprio video dove ve lo facevo vedere, l'avevo già registrato ma poi non l'ho pubblicato Trance del futuro che avevate già visto in un video unboxing del passato, mi sembra di maggio o qualcosa del genere, vi lascio il link qua sotto in descrizione del video dove ne parlo più specificamente Gohan che è uno dei Funko Pop regalati al compleanno, dopodiché abbiamo Piccolo che è uno dei Funko Pop di Natale, insieme anche a Krillin che vi avevo fatto vedere, link qua sotto in descrizione del video Dopodiché il Maestro Muten sempre regalato al compleanno, grazie mille a chi me l'ha regalato Spider-Man sempre Funko Pop già visto nel video di Natale, insieme a Miles Morales, ancora tutto impacchettato bellissimo secondo me Dopodiché i due Funko Pop di Taskmaster che è uscito il video è MJ, sempre di Natale Pluto con Funko Pop trovato a 5 euro, insieme a un altro Funko Pop della stessa serie, cioè Abraham E per finire Funko Pop che avete già visto, Baby Yoda, tra cui il video è già uscito sul canale Sempre il link qua sotto in descrizione Ragazzi scusate per questo mio mood di oggi, prima di tutto perché sto registrando il video alle 11 di sera e quindi devo anche un attimo abbassare i toni E seconda cosa per la noia È un video anche a cui io tengo, logicamente è una cosa che mi piace fare, farvi vedere un po' di cose che vi interessano anche a voi Ma logicamente sappiamo che a gusto e ognuno ha le sue vacanze Comunque state tranquilli, non sarò sempre di questo mood Ma logicamente per giovedì ho già registrato un video dove ve ne parlo più specificamente E allo stesso tempo sarò un po' più felice, ecco Comunque il link è qua sotto in descrizione di tutti i video che vi ho detto così da poter vedere meglio i Funko Pop E ve ne vado a parlare anche in un modo un po' più decente E niente, in generale questo qui era un po' un aggiornamento per chi vuole vedere bene tutta la collezione Vi lascio di nuovo un altro link del video collezione Funko Pop primo fatto E quindi niente ragazzi, bye nerd Grazie a tutti